La sede Istat della Toscana, in collaborazione con le università di Pisa, Firenze e Siena, ha sviluppato l'idea di misurare il livello di cultura statistica tra i giovani attraverso un'indagine, Cuvalstat. L'indagine è stata realizzata per la prima volta nel 2015 su oltre 10.000 studenti, con l'obiettivo di misurare la loro literacy statistica, cioè la capacità di padroneggiare gli aspetti numerici, di interpretare correttamente testi a contenuto statistico e di utilizzare i dati per prendere decisioni nella vita di tutti i giorni. L'operazione è stata condotta attraverso la compilazione di un questionario online, con la possibilità per i partecipanti di visualizzare il proprio profilo statistico su una scala di misura rapportata alle fasi di crescita di una pianta, da seme fino ad albero della statistica. I risultati hanno mostrato che la cultura statistica ha bisogno di essere nutrita, proprio come una pianta, e in questo senso si muovono le azioni di sviluppo promosse dall'Istat in Toscana.